Questo programma è offerto da Gego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania Raimondo Ceramica e Redobagno, viene a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania Eccoci qua, buon pomeriggio amici di Globus Television Tifosi Rosso Azzurri, il nostro campo ci chiama, il massimino prossimo a riceverci alla prossima gara Quella contro il Benevento, se ne parlerà lunedì, come sapete questa è calcionate Flash la trasmissione che abbiamo istituito da quest'estate Ora anche valida come anteprima della gara, della gara diciamo futura Quella che comporta che i nostri rossazzurri vadano a incontrare i relativi avversari Quindi Vincenzo Lacorte, come sempre per questa mezz'ora insieme a voi In compagnia di Salvo Russo, Salvo, buon pomeriggio Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i nostri amici che ci seguono Attraverso le pagine social di riferimento, attraverso lo streaming, attraverso i nostri canali televisivi Lo hai detto tu in apertura, insomma ci si appresta al debutto casalingo Casalingo lunedì sera contro il Benevento Un test match davvero molto impegnativo Così come impegnativo è stata la settimana in sede di campagna di rafforzamento Campagna di rafforzamento che chiuderà i battenti tra nove ore esatte Sì, pochissimo Quindi ultimi colpi di mercato, ne parleremo Chissà che mentre siamo qua in questa mezz'ora arrivi qualcosa, chi lo sa Sì, quindi trasmissione che naturalmente avrà come perno centrale le operazioni di calcio mercato Ma poi faremo anche focus su quello che sarà appunto l'impegno di lunedì sera contro il Benevento Assolutamente, assolutamente che chiaramente ora vedremo un attimino di fare come dire il punto su tutti i nuovi arrivati Nuovi e vecchi perché molti li conoscevamo in quanto si allenano col Catania da settimana ormai Sì da quasi un mese Dicevamo fuori i microfoni, caro Salvo Voglio vedere un attimino le frequenze, regia se ti è possibile Così non dimentichiamo dalla nostra scaletta di poterle, come dire, ricordare ai nostri amici Come sempre, canali 15 e 18 e il canale 268 del digitale terrestre Poi il sito della testata, globusmagazine.it slash video Le piattaforme streaming Twitch e TV Dream La pagina Facebook intitolata Calcionati i commenti di Casa Rosazzurra Come ben sapete, dove vi invitiamo sin da adesso a scrivere Local TV e Cyber TV per dar modo ai fratelli Rosazzurri residenti all'estero di poterci seguire Con tranquillità, naturalmente, l'app Globus Network Italia A completare il quadro delle possibilità per poterci raggiungere e seguire C'è un'ulteriore possibilità C'è un'ulteriore possibilità, la vediamo adesso in sovrimpressione Il numero WhatsApp è 340 051 12 86 Mi pare che abbiamo detto tutto Solita canonica a mezz'ora a nostra disposizione Quindi possiamo iniziare Possiamo iniziare Cominciamo da questa grafica che la regia ci propone Sempre prelevata dal nostro stadio, suppongo Vediamo un attimino cosa... No, ne parliamo dopo E allora cominciamo con qualche grafica Comincerei con il mercato, no? Che ne pensi caro Salvo? Cominciamo con vedere chi è ad oggi nei quadri, nei ranghi del Catania Le nuove operazioni chiuse in attesa che si chiudano le ultime due Chissà se qualche sorpresa, no? Perché ieri abbiamo visto i nostri massimi dirigenti immortalati in quel di Milano Certamente con inglese nell'atto di firmare Ma ha firmato anche De Rose Quindi sono da definire col deposito ufficiale Del contratto presso la piattaforma informatica della Lega E come sapete E sempre, come dire, relativo al discorso delle fuoriuscite legate Ma per farlo vuol dire che ci sono le disponibilità e le possibilità Vediamo rapidamente il quadro in entrata Con la nota che c'è uno che poi è stato ceduto in prestito No, l'altro portiere Le leggi tu, Salvo? Allora, queste sono le cosiddette entrate Vedete, no? Nella grafica preparata Questo termine da bilancio Poi ci sono anche le uscite Infatti Sempre una partita doppia Alla fine E questo, no, dicevamo Ringraziamo come sempre anche il nostro Salvo Ferrigno Che ci propina le sue grafiche sempre molto dettagliate Quindi questi gli atleti al momento a disposizione della società del Catania Adamonis, portiere di ruolo Che è stato uno dei primi acquisti Poi Tirelli Che comunque è stato ceduto in prestito E poi, eccolo qui, la linea difensiva Di Gennaro, Gerardi Uno degli ultimissimi arrivati Raimo Raimo Carpani, anche lui, uno dei primi arrivati Dei primissimi Così come Anastasio Di spessore, di dolore Guillemotti Guillemotti e Lunetta È Lunetta, la famosa coppia Che sono invece gli ultimi Infatti Ufficializzati Ma che già da un mese Addirittura da Assisi Forse anche di più di un mese Perché sono arrivati subito dopo l'arrivo ad Assisi Del grosso della squadra Già, da Assisi Hanno lavorato Vediamo che lavorano con Toscano Con Toscano Hanno assimilato gli schemi Tutti i dettagli E che probabilmente Se non entrambi Ma uno dei due Forse potrebbe debuttare Lunedì sera al Massimino Poi Di Tacchio Luperini Verna Imenez Altro trequartista Che è stato ufficializzato Appunto Nelle scorse ore Poi D'Andrea Che è stato uno dei primi acquisti Poi però D'Andrea Sapete Si è infortunato Starà fuori Ancora per un po' E comunque Anche D'Andrea Era stato individuato Come punto di forza Del reparto offensivo E poi Montalto Eccolo qui Questi sono al momento Tutti i colpi In entrata Ricordiamo Inglese De Rose In termini Cioè hanno firmato Ma il contratto È vincolato Allo solito discorso Delle fuoriuscite E c'è questa voce Stoppa Che sta girando Sempre più forte Non è escluso Che possa arrivare Anche un ultimo colpo Per dare forza Ancora più spessore Al reparto offensivo E poi occhio perché Dicevamo Tutto questo va di pari passo Anche col mercato Con le eventuali uscite E poi ne parleremo Diamo rapidamente Un'occhiata Ai messaggi dei nostri amici Che salutiamo Perché sono importanti La loro compagnia È vitale per la trasmissione E loro salutiamo Davide Coquit Che ci chiede Ci sono novità Ne stiamo parlando Claudio Abbate Ci chiede di Zanellato Ne parleremo Buongiorno da Genova Da parte di Tone Alticozzi Catane Web Buon pomeriggio Tone Alticozzi Di fatti ci ribadisce Novità Matteo Stoppa Ne abbiamo proprio adesso Accennato Catanese Fabiuccio Ho letto 5 minuti fa Che è fatta per Stoppa Quindi anche lui Ci conferma Quello che è più Le prossime ore Potrebbero Sì sì Assolutamente I cuori rossazzurri Del nostro grande amico Max Licari Che abbracciamo Sandro Catanese Ci saluta Mero l'arriva Ci domanda Sandro Catanese Poi ancora Carmelo Amoruso Ci sono i suoi cuori rossazzurri Mario Panebianco Ma inglese Lo abbiamo detto Ha firmato Deve essere semplicemente Depositato Il contratto Nella piattaforma Sino a stasera C'è tempo E verrà fatto Sicuramente Io ritengo Novità Merola Ci chiede ancora Tony Alticozzi Giuseppe Luana Del Fiume Gega è in arrivo Antonio Scuderi Buon pomeriggio a tutti Ottimi acquisti Poi ancora Mi sento già soddisfatto E lo salutiamo Grande Antonio Carmelo Grasso Buon pomeriggio E Forza Catania Antonio Costo Buongiorno Spero Che tu parli Un buon inglese E lo scrivi In inglese Chiaramente Riprendendo Quella famosa Querelle Giuseppe Cirolli Stoppa E tira Scritto con I puntini di sospensioni Poi ancora Paolino Lo Giudice In inglese Ci può anche stare Ma come alternativa Ci vuole un centravanti Titolare Che fa gol In forma E pronto per giocare Oggi Compleanno Alla nostra amica Stefania Sberna E Calcionate Lo ha Lo ha reso omaggio Alla nostra amica Di sempre Stefania Proprio sulle pagine Calcionate i commenti Hai fatto bene Grazie Siamo Concordi con te De Rose Ci chiede Giacomo Colti Abbiamo detto È un contratto Firmato Ma da depositare Alfiografia Buon pomeriggio Giacomo Bua Tantissimi auguroni Ci manca Si riferisce a Stefania Ovviamente E allora C'era una cosa Che avevo detto Avremmo dovuto parlarne Antonio Costa Chiede di salutare Sua sorella Antonella La sorella Per favore Lo facciamo Con piacere Assolutamente C'era una cosa Che mi avevo Ecco De Rose L'abbiamo detto Su Merola Probabilmente Forse su Merola Era qualcosa No Avevo letto Altre cose Stop e tira Mi è sfuggito Quando poi lo riprenderò Magari Di Giega Ne abbiamo parlato Che non Mi sembra sia Diciamo Al momento Era un rumor Che era girato Ma poi Non mi è sfuggito Allora Cominciamo a fare Un po' di ordine Oppure vogliamo Completare il quadro Vedendo anche Le uscite Lo facciamo subito Dopo Lo facciamo dopo Perché al momento Visto che Sono state tante Le richieste E anche La richiesta Di informazione Da parte nostra È giusto Che sia così Quindi Su Stop Appare che Il contratto Sia stato firmato Cioè L'intesa c'è I giocatori Pare che in queste ore Si possa arrivare A chiudere Per quanto riguarda Inglese L'abbiamo detto Ma è notizia vecchia Ormai Perché riguarda La giornata di ieri Era ieri Su Poi cosa c'era Su De Rose Abbiamo già detto Su De Rose Probabilmente La stessa cosa Su Merola Il Catania Non ha ancora Chiuso Nel senso che Rimane una possibilità La società In questo caso Faggiano Rimane attivo Sta seguendo Una certa Evoluzione Anche perché Insomma Merola È uno di Quelle pedine Di questo mercato Che Hanno richieste Anche da parte Di altre società E quindi Il Catania però Non ha mollato C'è tempo Ancora Un paio di ore Diciamo Per definire il tutto Probabilmente I dirigenti Ne stanno parlando Si vedrà Ma credo Che al momento Al di là Di questo Credo Poi Posso essere smentito Da un momento All'altro Altre operazioni In entrata Non dovrebbero Più esserci Ecco Su inglese Salvo Qualche dubbio Ha lasciato Il fatto Che ci si rivolgesse A un ragazzo Che non è che In quanto a forma Nelle ultime stagioni Sia stata un'eccellenza E questo Un po' stride Con quello Che abbiamo visto Sino ora Sino ora abbiamo visto Atleti Praticamente Che hanno corso Per 90 minuti In un caso Per 120 Perché sono Integramente A posto Sono fisicamente A posto Vengono da stagioni Complete Tranne i casi Degli infortuni Di Andrea Che è stata davvero Una sfortuna Però aveva fatto Anche lui Una signora stagione Con tanti gol E' vero Ma come mai Secondo te Il Catania Fa questo piccolo Retro passaggio Perché mi ricorda Un po' Questo inverno Quando è arrivata Una pletora Di ragazzi Che non giocavano Da mesi Sì E' vero Magari poi Lo chiederemo Alla prima occasione Lo chiederemo A Faggiano E' chiaro Che però La società Sta seguendo Dall'avvento Proprio Di Faggiano Una linea sicura Sulla scelta Dei calciatori E' un percorso In ogni caso Sì Un percorso Che non riguarda Solo L'aspetto Tattico E tecnico Ma Lo si è detto No Giocatori di personalità Giocatori che possono Intanto sposare Il progetto Catania La distinzione L'hai sottolineata Il Catania Finora Si è rivolto A giocatori Che hanno disputato Quasi Per intero La stagione scorsa E con buoni Con prestazioni Di buon livello Di valore Quindi diciamo Che La scelta Di Di inglese Probabilmente Deve essere eletta Sotto un altro Punto di vista Cioè magari Si è scelto inglese Proprio perché Ha Voglia Evidentemente Di scommettersi E comunque Non Anche se è stato Fermo Ma Credo Da quello Che sappiamo È un giocatore Fisicamente Integro Magari Non è ancora Nella condizione Migliore L'acquisirà Strada facendo Ma di certo È un giocatore Che potrebbe Comunque a livello Di esperienza Di peso specifico Lì davanti Dare il proprio Contributo Credo che sia Questa Poi Se vogliamo Alla fine C'è da evidenziare C'è da evidenziare Anche un dato Che potrebbe Essere significativo Che è un po' Allarmato Però Quando si parla Di campionati Di terza serie E cioè L'età media Della squadra Che si aggira Intorno ai 27,9 anni Quindi quasi 28 Per dire Il prossimo avversario Che è il Benevento Ha un'età media Di 24,4 Quindi un occhio Alla Alla carta anagrafica Alla carta di identità Del giocatore Che può significare Tanto Bisogna vedere poi Come O anche nulla Perché sì In terza serie Ne riparleremo Ne riparleremo Si deve giocare Anche a certi livelli Si deve correre Certi livelli di corso Però se una squadra Tecnica Riesce ad impostare Il proprio gioco Esatto Magari la corsa Non è priorità Non è poi L'unica L'unica Sciatta Non è l'unica Arma a disposizione Esatto Esatto E va bene Per rispondere ad Abate Che ci ha più volte Richiesto Di Zanellato Che cosa si dice Salvo Un giocatore Che sembra Un po' difficile Da smaltire Probabilmente Sarà uno Da gestire Con la risoluzione Del contratto Qualora Non dovesse restare Nel groppone Perché c'è anche Questo rischio Che se le risoluzioni Dei contratti Non dovessero andare A buon fine Che sono sempre costose In ogni caso Le risoluzioni Perché devi dare Una sorta di buon'uscita E a questo punto Potrebbero restare Fuori rosa E sempre a peso morto Del Catania Allora Diciamo che Attualmente I cosiddetti Fuori rosa Sono Di fatto Chiricò Di Carmine De Luca Rapisarda Zanellato Silvestri Popovic Monaco E Celli Ora Su Monaco E Celli Si è aperto Un piccolo dibattito In questi giorni Perché pare Che due giocatori Hanno espresso La volontà Di rimanere In rossazzurro C'è la valutazione Di Toscano Celli Probabilmente Viene attenzionato Perché è stato Pure tra i convocati Sì Della scorsa Partita Quella giocata Contro Il Sorrento Staremo a vedere E però In questo momento Figura Nella lista Dei cosiddetti Probabili partenti Anche perché Al momento Ormai il Catania Ha le figure Preposte A quello schema Del campo A quel settore Del campo Tra i giocatori Che si sono Un po' persi Dalla Rata Del mercato Ci sono Zanellato E lo stesso Silvestri Sì Che non Hanno richieste Probabilmente Ora qualcuno Ci riferiva 800.000 Più Silvestri Non so se Forse un'operazione Un'operazione Forse stoppa Forse stoppa Se ho capito Adesso Vi daremo Delle informazioni Vedremo un po' Vedano Pollina Ecco sia Silvestri Che Zanellato Potrebbero rientrare In operazioni Di questo tipo Quindi con un Interscanio Eventualmente Sì Come è stato Il discorso Anche Di Bua Che c'è stato Con Raimo Probabilmente Sì Per quando invece Riguarda Chirico e Di Carmine Dalle ultime Sappiamo Che ci sarebbero Degli interessi Da parte Di altre società Anche di categoria Staremo a vedere Ok Qualche altro messaggio Poi andiamo All'altra grafica Sebastiano Caruso Che ci saluta Alessandro Zappalà Possiamo dire Quello che vogliamo Alla fine i giocatori Sono stati presi Forse abbiamo parlato troppo Tonalticozzi Speriamo che prendano Merola Che per lui È fortissimo Vado ancora avanti Speriamo che Sì questo l'ho già letto Ecco Food Chef Toto Buon pomeriggio a tutti Adesso vediamo Chi si lamenta più Un abbraccio al mitico Salvo Rosso Food Chef Toto Lo conosci? Sì come no Un saluto Un saluto Al nostro amico Un saluto Si trova in Germania Lo salutiamo Allora un saluto doppio Lo salutiamo Sebastiano Caruso Anche a lui vanno i nostri saluti Angelo Riccioli Ci dice Meglio Merola Per quanto riguarda Zanellato Ci risponde Mario Gurino Che lo dice Vicino Al Trapani Ecco I nostri amici Interagiscono con noi Ci danno informazioni utili Fabrizio Andolfo Buongiorno a tutti Ricambiamo Celli via di corsa Ci dice Carmelo Zuccaro E quindi Vediamo un po' che succederà Gaetano Pollina Ribadisce Merola E fra le più forti Desiderata Un po' di tutti Potrebbe essere L'ultima operazione Di mercato Una sorpresona Una sorpresona Angelo Riccioli Veramente la chicca Si è Angelo Riccioli Speriamo Che quei due Vadano via presto Gaetano Pollina Dice per Merola Era l'800.000 Più Silvestri Questa era la trattativa Questa è l'opzione Quindi si sta giocando Su questa trattativa Grazie Grazie Gaetano Alfeografia Altri acquisti in difesa E poi ancora Carmelo Zuccaro Per Merola 800.000 Più Silvestri Il Pescara ha accettato Ma Merola ci pensa Quindi i nostri amici Sono informatissimi Ancora Giovanni Strazzeri Giovanni Strazzeri Su Zanellato Interessa al Trapani Si ci conferma Rosario Lanzafame Non possono più Prendere attaccanti Oltre inglese Stoppa e De Rose Ma De Rose Non è un attaccante Comunque No infatti È un centrocampista D'ordine Sì sì Molto giovane La trattativa È molto ma molto avanzata De Rose È mediano Ci ribadisce Rosario Lanzafame Su Moro È finita O c'è la possibilità Giuseppe Luana Del Fiume Vogliamo rispondere Allora Su Moro È una suggestione Chiaramente Perché Il nome di Moro È stato fatto Più volte È ritornato Prepotentemente In queste ultime ore Però Radiomercato Da questo punto di vista Non dà Spunti Segnali Segnali Concreti Di probabile Trattativa Avviate O non avviate Così come Per esempio In uscita Si sa che ci sono Ci sono state Ci sono Si stanno cercando Probabilmente Gli ultimi dettagli Alcune operazioni In uscita Dicevamo di Zanellato Dicevamo anche Di Rapisarda Che era Nelle mire del Gubbio Ma probabilmente Una pista Che nelle ultime ore Si era affreddata Così come Alcune richieste Per Chiricò L'avevamo sentito Anche per Agli inizi Agli inizi Però tutto questo Potrebbe Davvero Avere Una soluzione Negli ultimi minuti Se non Proprio Alla chiusura Della fatica porta Come spesso succede Come spesso succede Anche perché C'è da dire Che in questi casi Le società Acquirenti Per così dire Cercano un po' Di tirare Sul Normale Su quelle che possono essere Le convenienze Giusto Quindi il Catania Diciamo che Ha necessità Di liberarsi Di contratti pesanti Che vogliono dare Respiro Respiro per chiudere Prontamente Ma hai dato una mano Eccezionale Perché hai parlato Di contratti Perché sembra Liberarsi dei giocatori Così Stovano un po' Ma dei contratti Si vuol dire Si vuol dire Non abbiamo invece Parlato di quello Che Per molti Potrebbe essere Proprio Un L'operazione Un po' Del Del sacrificio Che è quella Di Castellini Diciamo però Apertamente Lo dichiariamo Adesso Che pare Che comunque La società Abbia di fatto Blindato il giocatore Nel senso che Perché ha capito Che non è questione Dei due milioni Perché ha uno A oro Qualcosina in più È chiaro Risolti Così pare I problemi Finanziari I budget Eccetera Credo che Castellini Almeno Per quest'altra stagione Debbia rimanere E con i gradi Capitani Quindi Poi Davanti ad una Offerta Irrinunciabile Tra parentesi Apro e chiudo parentesi Milan Anche se Si tratterebbe Del Milan Futuro Eccetera Però sempre Milanè Beh E con Che esce Allora Forse questa Trattativa Potrebbe Sbloccarsi Chiaro Al momento Ci dicono I beni informati Che la società Non ci sia nulla Di tutto questo In vista Ha blindato Castellini Andiamo avanti Un altro messaggio Lorenzo Russo Anche lui È della scuola Di pensiero Che 800 mila Più silvestri Nella trattativa Per portare A Catania Merola Poi Andolfi Fabrizio Andolfi Ci dice Andolfo Ci dice Qualsiasi calciatore Arriva Il campo Darà ragione Non dimentichiamo Che l'anno scorso Sulla carta Era uno squadrone Sempre Forza Catania Ancora C'è il messaggio Di Antonio Costa Saluta Sempre la sorella E ci sono cuoricini Quindi vuol dire Che la sorella L'ha raggiunto Mario Gulino Se prendiamo Merola E Curcio Sarà Siamo in B Di Curcio Non si è più parlato Nemmeno Era stato lanciato Così Come Moro Sì Come Moro Diciamo che non c'è Nulla di concreto No no infatti Non c'è stato Un vero incontro Da Fer Buongiorno Viste la lista Di 23 Ci sono giovani Della primavera Che rimarranno aggregati O sono interessanti Anche in ottica futura Ecco questo Mi apre la possibilità Di fare un discorso Non molto largo Perché non abbiamo il tempo Ma Interessante Perché Salvo Perché Non vorrei Non vorrei Che ancora una volta Si chiuda La parentesi Giovani Semplicemente Come fatto Numerico E di necessità Se un progetto c'è Di fare crescere Quei due ragazzi Che hanno esordito Sia in Coppa Che in Campionato E mi rilisco Soprattutto a Forte Che ha giocato Tre partite su tre Spezzoni Chiaramente Sì sì E poi anche De Emilio Ovvero l'attaccante Se esiste un progetto Se dobbiamo credere A qualcosa Di un futuro Questi giovani Hanno tutto il diritto Di restare aggregati Alla prima squadra E Finalmente Io immagino Una partita Con un robuante Tre a zero Quattro a uno E finalmente Dagli il minutaggio Senza avere quella Senza avere quella Paura Di doverli Di doverli schierare Perché si pensa A chissà che cosa Come ahimè È successo Nelle annate Precedenti Questa sarebbe Questa sarebbe la vera Chiave vincente Un discorso vincente Da questo punto di vista Tutto questo però Rientra poi nel fatto Che a disposizione La lista ufficiale Sarà composta Da 23 giocatori L'anno scorso Noi non abbiamo Il 24 Il quattresimo Purtroppo Al momento Facendo due conti Di giocatori Al momento Dico In questo momento Visto che siamo in trasmissione E sono quasi Siamo sotto finale Diciamo che Al momento Ce ne sono 27 Di giocatori Quindi Di Signife Ce ne sono ancora Quattro in esubero E poi Vedremo I giovani A disposizione Sono Lo hai ricordato tu Allegra Nania Ursino Forti Pelleriti Coriolano Ed Emilio E i portieri Che hanno giocato Che magari sono Quelli più Magari sono quelli Più importanti In questo momento Che manca Ad Amonis Che deve recuperare Anche se ho visto Delle immagini Che si sta allenando Col preparatore Quindi è in corso Di recupero È in corso di recupero Ancora un paio di domande Così riusciranno a liberarsi Dei contratti di Carmine Che ricoprò prima di mezzanotte Ne abbiamo parlato prima Tifosi del Catania In Spagna Bel gruppo questo Carmelo Zucchero Infatti ribadisce Che Curcio Non arriva E rispondiamo Anche a Natale Gambino Per Castellina Hanno rifiutato Due milioni e mezzo Ci dice il ben informato Carmelo Zucchero Infatti io avevo detto Qualcosi In più di due minuti Francesco Lippo Tutti i figli del Vulcano Lui di allo stadio A sostegno Marco Sapienza Marco Sapienza Merola non c'è niente Non c'è nessuna trattativa Tra Pescara e Catania Curcio non c'è nulla Rosario Lanzafame Se guardiamo i nomi della Rosa Devono uscire nove Silvestri Monaco Celli Rapisarda Zanellato Chiricò Di Carmine De Luca E Popovic Entrerebbe in Grese Stoppa De Rosa Un difensore centrale Verificate Totale 23 Mi sembra che tu Hai dato questa cifra prima Giusto? Lo abbiamo fatto Caro amico Lanzafame Ne abbiamo parlato un minuto fa Vediamo ancora C'è un altro commento Vediamo un po' se ci riesco da qui Allora Percelli Transfermarket lo dà al gubbio All'88% Vabbè È un forum di terzi Non è una testata regolamentare Non è una testata giornalistica Avevamo detto che c'era l'interesse Nelle ultime ore si è un po' raffreddata la pista Però diciamo che fino alla mezzanotte Qualcosa Tutto è possibile Salutiamo anche Fabrizio Andolfio Che confida nel fatto che arrivi ancora qualcuno Uguale Marco Sapienza Ormai si aspetta di chiudere gli esuberi E stop E abbiamo letto tutto Siamo aggiornatissimi Abbiamo letto i commenti di tutto Allora vediamo quanto tempo abbiamo a disposizione Perché poi c'è da vedere altre grafiche Sì se possiamo Se la regia ci dice Dando a vedere il turno Che si giocherà Già a partire da stasera Perché già stasera Ovviamente Si scende in campo Il solito spezzatino in quattro giorni Il solito spezzatino Dal venerdì al lunedì E allora vediamo un po' Se la regia ce lo passa anche in bassa frequenza Così lo vediamo Prossimo turno No questa è la classifica Esatto La classifica generata dai risultati del primo turno Vabbè insomma Picerno, Crotone, Monopoli, Cerignola Benevento e Giuliano a tre punti Foggia, Messina, Potenza, Trapani Casertana, Latina, Catania e Sorrento Ad un punto E poi a zero punti Juventus, Next Generation Cavese, Taranto, Tim Altamura Turris ed Avellino Tra un po' Vi daremo poi nel dettaglio Il quadro completo degli incontri Della seconda giornata Certo fa un po' effetto vedere Juventus e Avellino A zero punti Avellino ha perso male Infatti Benevento ha rischiato Poi ha rimontato E è riuscito a recuperare Sono già aggiustate per differenza in reti Giusto? Sono con la propria Con la classifica Sì, sì E per questo l'Avenino è l'ultima Perché ha una differenza in reti di meno tre I colori cangianti Ci aiutano a capire La classifica fatta per differenza in reti Con tutti i criteri Assolutamente Quindi vediamo il secondo turno Vediamo se è pronto Che comincia proprio stasera Che inizia stasera Altrimenti noi continuiamo Eccolo qua Allora si giocano stasera Audace Cerignola Messina Casa Ertana Juventus Next Generation E Taranto Latina Domani invece L'unico incontro sarà Monopoli Sorrento E poi domenica Potenza Turris Trapani Picerno Avellino Giuliano Che è un derby Già dal sapore Insomma Intenso Importante Per la classifica Lunedì Invece Cavese Crotone Team Altamura Foggia E Catania Benevento Che si gioca Alle 21.15 Naturalmente Noi la seguiremo In diretta Caro Salvo Certo Mi verrà impegnato Direttamente In una notturna Lunghissima Il prossimo turno Vediamo pure La terza giornata La terza giornata In prospettiva Ci portiamo avanti Perché Questa volta Si gioca Tutto in maniera Un po' più Concentrata Condensata Tra sabato E domenica Sabato si gioca Picerno Casertana Così come Juventus Next Generation Catania Prima trasferta Importante Diciamo Oltre Il fine Del nord Chiamiamolo il nord Il grande nord Andiamo sulle Alpi A Biella E poi Crotone Trapani E Messina Taranto Così come Turris Latina Tutti incontri Molto Molto Importanti Vivi Tutti belli Cruenti E poi Domenica Torrento Team Altamura Poi Ciavellino Audace Cerignola Benevento Potenza Foggia Monopoli Derby Che non mancano mai Nella Puglia Che è ricca di squadre E Giuliano Cavesi Altro derby Cazzano Quindi assolutamente Sì Stavamo dicendo Dunque Che per sabato Vi aspetta una lunga Maratona Perché Lunedì Lunedì Chiaramente Non c'è calcionate Ma c'è studio Stadio Live Perché salvo Il direttore Gaetano Legreggi Saranno al Massimino Per la diretta Cominciamo come sempre Mezz'ora prima Il sottoscritto Sarà qui In studio E non mancate Di andare allo stadio Quanto meno Non mancate Di vederla Ricordiamo che va in diretta Su Rai Sport Anche la trasmissione Sì Ma al di là di questo Ma ci siamo noi Ci siamo noi ovviamente Che cureremo Il nostro commento A proposito di questo Vedete 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 Andate Esatto Andate allo stadio Perché ci sarà qualcosa Di gradevole E di sorprendente Da vedere Non vi diciamo più nulla Ma non ne sarete delusi Sicuramente Vincenzo A proposito di questo C'è da evidenziare Ancora una volta E sottolineare Come la quota di abbonati Sia di tutto rispetto Anche se mai Ufficialmente pubblicata Anche se mai Ufficialmente pubblicata Però voci ben informate Certo Non sono i numeri Dello scorso anno Ma con quello che è successo Però 11.000 E passa Abbonamenti C'è una grande forza Per quello che Abbiamo Stiamo vivendo Diciamo Infatti È una cifra Molto considerevole Infatti Se teniamo conto Che in altre piazze Anche quotate La media degli spettatori Non supera Le 2.000 unità Infatti Abbiamo visto Sorrento Però è lì A Sorrento C'è una situazione particolare Lo stadio è distante C'erano 200 Credo C'è forse 100 Neanche tifosi Ma lo possiamo capire Però l'anno scorso Abbiamo visto Abbiamo visto realtà Dove gli spettatori Erano quelli Si attestavano Intorno a 2.000 Anche piazze importanti Che lottavano Per obiettivi Ti posso dire Che oggi casualmente Mi è capitato Un post Della Vispesaro Che si parlava Di 500 abbonati Con grande Enfasi E comunque La prevendita Anche per quanto riguarda L'acquisto dei biglietti Credo che si attesse Intorno alle 2.000 2.000 2.000 Presenze oltre gli abbonati Un buon numero Assolutamente Allora vi ricordiamo Chiaramente Che durante La trasmissione Studio Stadio Live Come solito Daremo fondo Alla nostra Verve Per chiedervi Di partecipare Ai nostri Giochi Come sempre Qui vedete Ne vedete uno In particolare Che è quello Della maglia Ma ci sarà Scusate Che è quello Della cuscina Come sempre Quindi il primo Che divinerà il risultato Ma ci sarà Anche il solito gioco Sull'indovina la firma Per cui il portachiavi E il buono Da 100 euro Ci sarà anche La possibilità Come sempre Di indovinare La posizione Del Catania Alla fine Del tredicesimo Turno Del ritorno Tutti Tre premi Organizzati Diffusi Distribuiti Da Giacomo Che ringraziamo Come sempre Non dimenticatelo Che c'è anche Questa possibilità Di giocare Sperando anche In una bella vittoria Del Catania Naturalmente Leggiamo gli ultimissimi Commenti E poi Se c'è tempo Vediamo l'ultima grafica Se no Ci salutiamo Vediamo un attimino Allora Per Antonino Tomaselli Secondo tutto Pescara Quindi una testata Diciamo Della città Il Pescara Ha accettato L'offerta Ecco quello che sapevamo noi Del Catania Per Merola Ma adesso Aspetta il giocatore Accettare O meno Un triennale Quindi c'è ancora Questa voce Siamo ai dettagli Però c'è C'è la trattatura Paolino Lo Giudice Poste il link Che dice questo Io non l'ho letto Ma non so con chi stia parlando Sì Con quello che ha detto prima Cioè con Antonino Tomaselli Poi Francesco Lippo Per Chiricò E Di Carmine Sarà rescissione Certo E' quella La strada più logica Però Vorrà dire anche Un sacrificio economico Perché ci vuole una buona uscita Dietro tutto questo Dietro una rescissione Ci vuole una buona uscita Io credo che Per questa trattativa Si arriverà proprio A minuti finali Per capire Se ci sono altri Ma è normale È un gioco di rilancio Non c'è niente da fare Vediamo la formazione Probabile Ipotizzabile No? Anche tenuto conto Delle risorse Che entreranno Finalmente Nella panchina Di Di mister Toscano Vediamo un attimino Mi aiuti tu A leggere Sì Allora Diciamo che Lo schema Dovebbe essere Quello già visto Nell'impegno precedente Con Betters in porta Linea difensiva Formata da Ierardi Di Gennaro E Castellini O Quaini No E la maglia No 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 Castellini Va bene va bene No e Castellini Anche se poi Quaini Anche se Quaini Ha fatto benissimo Potrebbe poi In un gioco di scacchiere Di Pellino In un avanzamento Di Castellini No no è chiaro È chiaro Certo Al momento diciamo Questa è l'ipotesi Potrebbe essere una delle formazioni Ipoteticamente più Ecco poi vedo Guglielmotti a destra Ma la cosa mi convince poco Perché Guglielmotti Mi sembra che sia sinistro Dovrebbe essere Lunetta a destra Dovrebbe essere Lunetta Ecco io A meno che c'è un problema Di maggior preparazione Di maggior Diciamo Attitudine Al momento Ma secondo me il titolare Lunetta Raimo Sostituto di Lunetta Invece Anastasio E Guglielmotti a sinistra Infatti Anastasio è lì Al centro di Tacchio E poi il ballottaggio Tra Sturaro E Verna E ci siamo Che già si è messo in mostra E ha mostrato Delle qualità Non indifferenti Eccolo Qui diventa importante Ora la cosa Davanti A supporto Della punta Che dovrebbe essere Montalto Anche se Anche su Montalto Al momento Diciamo C'è un punto interrogativo Ma il giocatore Ha comunque Già Seguito tutta la preparazione Quindi atleticamente Dovebbe essere Ormai Sono da parecchie settimane A Catania Assolutamente Ci dovrebbe essere Insieme a Montalto E a Guiemolti Anche l'esordio Di Imenes Che Dovebbe fare coppia Con Luperini Proprio a supporto Luperini ormai Conclamato Luperini ormai Dinora ha giocato Sempre là Assolutamente E tra l'altro È quello che ha segnato Sì È anche quello Che ha cercato Più spesso L'altro giorno Ha sfiorato di poco Quindi questo Interessantissimo Gimenez Ex Atalanta Under 23 Che abbiamo incontrato Lo scorso anno Specie nella gara di ritorno Ha fatto il Diavolo A4 Ha fatto il Diavolo A4 Giocatore Che ha buoni piedi Sicuramente Insomma In possesso Di una buona tecnica Questo quindi Il 3-4-2 Uno ipotizzato Da Mimo Toscano E questa invece La probabile formazione Presentata Da Gaetano Auteri Il suo Benevento Che dovrebbe Schierare A difesa dei pali Nel 4-3-3 Nunziante E poi Gli esterni Difensivi Barra E Ferrara Con i centrali Che dovrebbero essere Cappellini E Tosca O Viscardi Un ballottaggio Un ballottaggio Mediano In Mediano C'è Prisco Centrale Poi A Campora E Simonetti Ai lati E il tridente Difensivo Formato da Manconi Punta centrale La Mesta A destra E Lanini E Lanini A sinistra Che un po' Rispecchia la formazione Vista già Contro La Cavese Allora Carmelo Zucchero Sempre presentissimo Nel Sottolineare Gli aspetti Ci dice Che secondo lui Invece È corretto Come impostato Nella formazione Perché Guglielmotti Gioca a destra E Lunetta A sinistra Io Mi hai dato Una informazione Esatta Io non l'avevo Verificato Pure bene Sono stato io A portarti fuori strada Allora Così come Era impostata Era impostata Correttamente Con Guglielmotti A coprire Il posto Che era stato Di Di Castellini Nell'ultima gara In alternativa A Boa Giusto Perché era già In uscita E quindi Guglielmotti Vorrebbe andare a fare Il suo ruolo Confermo Adesso sì Confermo Perfetto Guglielmotti A destra E Lunetta Quindi è Lunetta Che è l'alternativa Di Anastasio Mentre Raimo È l'alternativa Di Assolutamente sì Perfetto Ma bene Credo che Abbiamo esaurito Il nostro tempo A disposizione Se non c'è altro Possiamo solo Ricordare Forse Rifare Il riepilogo Di quello Abbiamo detto Sulle trattative Ma ne sapremo Di più Dallo Sheraton Di Milano Stasera A chiusura Insomma A mezzanotte Siamo in Dirittura di arrivo Siamo arrivati Siamo arrivati E quindi Caro Vincenzo Va tutta una tirata Tutta senza prendere il fiato Adesso ci riposeremo Due giorni Ma lunedì Torneremo Con Studio Stadio Live A partire A partire Dalle 20 e 45 Perché la gara Inizia alle 21 e 15 Pre partita Partita E soprattutto post partita Con le interviste Il classico schema Assolutamente Per stasera Continuate a seguire Le ultime fasi del mercato Ci saranno le ultimissime sorprese Ne parleremo poi lunedì Durante la trasmissione Quindi Vincenzo La Corte Vi dà il buon pomeriggio E a lunedì Un saluto anche da Salvorusso A lunedì A lunedì Questo programma è stato offerto da Gego Motor Concessionaria moto e scooter Dal 1962 A Catania Raimondo